Buonasera con voi fino alle 8 per parlare tra l'altro anche di questo San Valentino C'è chi insomma cerca di organizzare una cosa romantica, c'è chi resta a casa come la sottoscritta Tra l'altro ho prenotato una sushi dinner molto glamour dal mio amico Enrico Schettino, Giappo Bonjour, ma che partita chi se ne frega della partita palligiano lo facciamo sapere agli uomini Perché altrimenti rimaniamo tutti quante da sole domani sera, ce la cantiamo e ce la suoniamo No mi sono ordinata invece un bel sushi, molto molto glamour, Enrico grazie, grazie sempre Giappo, forever, endeavor, ma che ci vago io sola? Ma guarda io non lo so, sai come farà mio marito? Si metterà con la cuffietta, capito, con la mano davanti cercando di fingere l'attenzione Vabbè insomma ragazze siamo proprio tutte quante nella stessa barca, il tifoso napolitano è un tifoso un po' sui generis Invece un ragazzo russo